Buongiorno a tutti. Oggi è la giornata che ci ricorda l'importanza di tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità. In questa drammatica crisi sanitaria, economica e sociale che il mondo sta vivendo, prestare attenzione a tutte le donne, gli uomini, i ragazzi, i bambini più deboli e più sfortunati non è solo un impegno morale, ma una scelta obbligata, perché loro, i disabili, sono tra le vittime dimenticate della pandemia, i grandi sacrificati di un'emergenza che aggrava difficoltà e disagi già esistenti e ingigantisce quell'isolamento con cui molte di queste persone sono costrette a combattere da sempre. Sono loro, i più fragili tra i fragili, l'anello più delicato della nostra società ed è a loro che abbiamo il dovere di garantire la reale possibilità di vivere senza essere discriminati e senza essere privati della possibilità che a tutti sono riconosciute. Oggi ancora più di ieri. Il lockdown ha imposto alle famiglie di farsi completamente carico dei servizi per i loro congiunti disabili e di riempire il terribile vuoto della scuola negata. Grande e a volte insopportabile è stata la fatica e la solitudine delle madri e dei padri che si sono dovuti improvvisare, infermieri, insegnanti, medici e psicologi. E proprio la rete delle relazioni familiari deve essere sostenuta e rafforzata per assolvere il difficile compito di creare luoghi dove le persone disabili possano crescere e sviluppare tutte le loro potenzialità. Per questo le istituzioni a maggior ragione in questo momento di difficoltà non possono lasciare le famiglie sole di fronte alla disabilità e alla malattia. L'Italia che dobbiamo costruire è un'Italia che rimette al centro delle politiche pubbliche la persona e la famiglia perché solo se sapremo costruire una società più inclusiva, più giusta e più sostenibile anche socialmente, avremo tratto dalla sofferenza che stiamo vivendo una lezione utile e preziosa. Questo è il mio augurio, questo è e sarà il mio impegno.